Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Silvia Toffanini e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più note del panorama mediatico italiano. Insieme dal 2002, la coppia ha due figli, quella di ieri è stata una notte di grande apprensione che ha coinvolto la famiglia di Pier Silvio e Silvia, quando uno dei loro figli è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di un malore improvviso. Secondo voci di corridoio e fonti vicine alla famiglia, la bambina ha cominciato a sentirsi male durante la notte, costringendo Pier Silvio e Silvia a chiamare immediatamente i soccorsi. L'ambulanza è arrivata tempestivamente e la piccola è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nonostante la preoccupazione, i medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni e hanno monitorato attentamente la situazione. Fortunatamente, la bambina si è stabilizzata, ma i medici hanno deciso di tenerla sotto osservazione per ulteriori accertamenti. Pier Silvio e Silvia sono rimasti accanto alla loro figlia per tutta la notte, visibilmente preoccupati ma sollevati dal fatto che le sue condizioni fossero sotto controllo. Nel frattempo, i fan della coppia, venuti a conoscenza della notizia, hanno riempito i social media con messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione per la piccola e anche noi facciamo lo stesso augurio qui sotto nei commenti e Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore